Perché la barca andava bene, però qualcosa non ha funzionato, probabilmente. Allora, vabbè, alla mia età mi permetto di trarre dei giudizi sintetici. Oggi direi che è venuta fuori un po' l'arroganza di Spitil, perché secondo me gli errori nascono un po' tutti dalle sue decisioni. E comunque io da un po' di regate che dico non mi piace tanto come curano l'avversario, come lo tengono sotto le vele piuttosto che curare la tattica, perché il tutto parte da quello, nella seconda volina non l'hanno curato, sono andati dalla parte loro, anche lì un po' di arroganza, pensare di sapere dove arriva il vento. Ma questo è un errore che lo si fa molto spesso nelle regate match. In realtà bisogna sempre mettere, diciamo, sotto le vele l'avversario, mettersi sempre fra l'avversario e la boa. Da lì poi nasce una perdita di vantaggio che avevano guadagnato con un'ottima partenza, con un'ottima velocità, con un'ottima tattica fino a quel momento. E allora a quel punto vai un po' nel pallone perché dici ma come, ho fatto tutto bene e adesso mi stanno riguadagnando. Per cui il primo incrocio, dove giustamente non hanno tentato di passare, però hanno fatto una manovra troppo in ritardo, troppo al limite, che se anche non fosse stata penalizzata avrebbe fatto perdere troppa distanza perché la pugiata doveva essere anticipata. La seconda invece hanno tentato di passare e non passavano e poi l'ultima la boa, veramente un suicidio annunciato. Io, come ho iniziato a dire, sintetizzo tutto con un po' di arroganza da parte del bravissimo Spiti, che però insomma dall'alto della sua esperienza e della sua competenza oggi ha detto adesso me la invento io e lì ha sbagliato.